Questi oltre 6 milioni di euro, come si è riuscito a sbloccarli oggi? Perché oggi e non prima? Effettivamente con l'arrivo della nuova provincia c'erano diverse opere bloccate, opere di lavori pubblici importanti, strade e scuole. Alcuni lavori sono stati fatti già nella scorsa primavera, legati soprattutto all'alluvione che c'è stata a marzo. Altri stanno per partire adesso, penso alla 18 per Varano, a Varano-Fontecucchi, alla Specola, la strada che va a Poggiocono, ci sono delle frane di monte, di valle e parti di asfalto. A Castagneto si sta lavorando, a Villaripa nel 2016 pensiamo di intervenire a Travazzano, dove c'è una frana importante, la strada che va a Valle San Giovanni e anche a Castrogno, verso il carcere abbiamo chiesto un finanziamento alla regione all'interno di altri finanziamenti, perché anche lì i cittadini, ma anche poi c'è il carcere, chiedono di sistemare la strada provinciale. Diverse cose sono state fatte anche prima per un importo complessivo di oltre 2 milioni e mezzo di euro. Anche sulle scuole ci sono circa 4 milioni di euro su Teramo Capoluogo, sono soldi che derivano dal terremoto e sono cantieri che tra breve partiranno, i progetti si stanno realizzando e quindi speriamo che il prima possibile di mettere in sicurezza anche queste strutture.